Si chiama Adriatic Jets Women Leaders, la rassegna Jets dell'eccellenza al femminile organizzata e promossa dall'ente Manifestazioni Pescaresi. La rassegna si fonda sulla collaborazione tra Pescara Jets e Ancona Jets, due festival storici che rispettivamente dal 1969 e dal 1979 hanno ospitato i più grandi musicisti del mondo e che insieme presentano al pubblico un progetto di produzione di tre concerti che verranno replicati sia in Abruzzo che nelle Marche. Sicuramente un onore per Pescara, un onore per le ente Manifestazioni, come è illustrato già il direttore artistico abbiamo tre spettacoli, due nel mese di ottobre e uno nel mese di novembre e abbiamo creato anche una rete con altri festival, cioè il festival Jets di Ancona, quindi è una cosa bellissima, una cosa che comunque ci ha entusiasmato fin dall'inizio, ci crediamo e vogliamo appunto offrire alla cittadinanza di Pescara anche un'attività invernale. Il 20 ottobre ci sarà Serena Brancale con la sua straordinaria voce, con un progetto dedicato alle canzoni del sud, quindi con una forte connotazione etica, canzoni napoletane, pugliesi, siciliane, quindi diciamo il nostro mondo del sud Italia rappresentato in musica, con l'accompagnamento della Medit Orchestra. Il 27 ci sarà Karima, invece fa un progetto, un repertorio totalmente diverso, internazionale, e lei farà invece un repertorio, sempre accompagnato dalla Medit Orchestra, di grandi successi internazionali, tratti dal suo ultimo lavoro che è No Filter. E infine il 5 novembre qui a Pescara esordirà il 4 al Teatro La Fenice e La Senigallia, ma il 5 approderà qui a Pescara il progetto di Karim Bornefoua, che non è una cantante, pianista, direttrice, compositrice, arrangiatrice, che presenterà la produzione, diciamo così, marchigiana, proposta da Ancona Jazz, e con la Colors Jazz Orchestra, che però in questo progetto si presenta in una veste più orchestrale sotto forma di large ensemble. Con questa iniziativa centriamo i due obiettivi che ci eravamo preposti, perché l'idea di base era quella di allargare, diciamo, la stagione del teatro e delle manifestazioni anche ai mesi invernali, quindi fare una programmazione che potesse avere valenza su tutto il corso dell'anno. E con questo nuovo progetto centriamo anche questo secondo obiettivo, perché è rivolto soprattutto ai giovani, che sia come pubblico, il 50% delle repliche saranno destinate alle scolaresche, e sia come partecipazione femminile, perché i progetti musicali hanno come protagonista proprio le tre leader femminili del settore della musica.